bentornato gutier bentornata andiamo avanti nella spiegazione di windows 10 è ora di parlare di un'altra sezione in particolar modo il centro notifiche che cos'è è una funzione che permette di interagire con il sistema operativo e di programmi installati grazie a delle notifiche che esso o i programmi ti forniranno man mano che utilizzi il computer si trova nella sis 3 in basso a destra accanto all'orologio quando il sistema operativo o un programma devono fornirti una notifica lo fanno attraverso questa sezione il centro notifiche è costituito da un piccolo rettangolo in trasparenza tipo fumetto che diventa bianco quando il sistema deve comunicarti una notifica indicando anche un numero come funziona cliccandoci sopra compare una barra laterale in cui trovi una descrizione della notifica che ha avuto evento cliccando a sua volta sulla notifica potrai ottenere ulteriori informazioni sulla stessa interagire col programma che l'ha generata o più semplicemente cancellarla cliccando sulla classica x in basso alla barra trovi altri pulsanti per azioni rapide che ti permetteranno di accedere a varie sezioni per cambiare le impostazioni del computer questa ultima sezione personalizzabile potrà infatti decidere quali pulsanti far comparire i pulsanti che possono comparire in questa sezione sono rete tutte le impostazioni connetti vpn nota modalità tablet posizione non disturbare o proietta il primo pulsante rete ti permette di accedere alle impostazioni della tua rete vedere i parametri oppure disattivarla tutte le impostazioni invece è una sezione che ti permette di entrare nel cuore del sistema operativo con la possibilità di visionare e cambiare tutto o quasi invece il pulsante connetti ti permette di collegare il pc a periferiche esterne come schermi o dispositivi senza fili oppure proiettare qualcosa sul tuo schermo da periferiche esterne con vpn può creare una virtual private network ossia una rete virtuale privata con cui poter navigare migliorando così attraverso essa la sicurezza del tuo pc della tua navigazione con nota invece puoi appuntare ciò che devi ricordare come se avessi un post it in carta sfruttando il programma one note della suite di office modalità tablet trasforma la visualizzazione per l'uso di un tablet come se stessi appunto utilizzando un tablet a posto del monitor l'opzione posizione attiverà la geolocalizzazione del tuo dispositivo per poter essere impiegata ad alcuni programmi che richiedono tale funzionalità il pulsante non disturbare attiva la modalità per non essere disturbati quindi niente notifiche dai programmi l'ultimo di questa lista è proietta che permette di scegliere come visionare il desktop se solo sul monitor o più monitor avendo una disposizione naturalmente la lista appena descritta potrà variare in base all'edizione del sistema operativo eventuali aggiornamenti salati o dispositivi utilizzati inoltre non tutte le funzionalità saranno attivabili ovviamente se il dispositivo che utilizza non supporta tale opzioni per decidere quali di questi pulsanti far comparire e quali nascondere vai su tutte le impostazioni e poi clicca sulla sezione sistema entrerai nella sotto sezione notifiche ed azioni e ancora nella sezione azioni rapide trovi la lista delle opzioni da poter aggiungere o rimuovere tramite dei cursori cliccandoci sopra infatti il cursore si attiverà o si disattiverà e quindi la rispettiva icona potrà essere nascosta oppure presentata in questa sezione tornando indietro nella sezione notifiche vari cursori imposteranno le tipologie delle notifiche o ancora mostrarne oppure no infine potrai decidere se avere notifiche da alcuni programmi quindi mittenti che possono anche variare in base ai programmi installati quindi questa lista potrà essere più o meno ampia in base ai programmi installati in questo caso tramite i cursori potrai decidere se attivare o meno le notifiche da questa lista di programmi per disattivare invece l'icona del centro notifiche dovrai cliccare in una zona vuota della barra dell'applicazione scegliere impostazioni nella finestra avrai già la selezione su barra delle applicazioni scopri finché trovi la zona area di notifica e clicca su attiva o disattiva icone del sistema regati nell'opzione centro notifiche e potrai disattivare o attivare la funzionalità del centro notifiche in questa sezione potrai anche decidere quali icone visionare nella sistra e tornando indietro nell'area di notifica trovi anche un altro pulsante ossia seleziona le icone da visualizzare sulla barra delle applicazioni un'ampia lista determinata con dei cursori ti permetterà di migliorare la selezione innanzitutto c'è un cursore in alto che ti permetterà di raggruppare o meno le icone se attivato o disattivato altri cursori come detto ti permetteranno di personalizzare quindi raffinare la scelta delle icone da visualizzare in base alle tue necessità bene guter eccoci in zona pratica in basso a destra trovi la sezione relativa alle notifiche simuliamo una notifica proveniente dal sistema operativo inserendo una pen drive ora rimuoviamo l'hardware quindi la pen drive e vediamo un banner che compare indicando che è possibile rimuovere l'hardware come vedi qui c'è una doppia notifica nella barra delle applicazioni cliccandoci sopra come hai visto in precedenza prima erano due successivamente è diventata una sola in quanto è andata via la notifica relativa alla rimozione della pennetta usb una volta visionata alla notifica potrai decidere di cancellare questa notifica oppure cliccando sopra si aprirà il programma che l'ha generato per determinare un'opera azione da eseguire in questo caso è un'analisi che deve essere eseguita sul computer perché è passato un bel po di tempo dall'ultima analisi annulliamo l'analisi e proseguiamo nella descrizione della lezione nella barra delle notifiche trovi anche le azioni rapide come puoi vedere un certo numero di pulsanti si presenta a te numero di pulsanti che può essere variato di volta in volta in base alle tue necessità cliccando sul primo pulsante rete entrerai nella zona di gestione delle impostazioni di rete così puoi ottenere informazioni utili alla gestione della stessa il secondo pulsante che notiamo è nota che è una specie di post it che sfrutta un programma one note della suite office per poter appuntarsi le cose che potremmo dimenticarci nella sezione tutte le impostazioni entri nel cuore del sistema qui in dettaglio il pulsante sistema ti introduce nella sezione che ti permette di evidenziare le notifiche e le azioni da eseguire in questa prima zona puoi aggiungere o rimuovere le notifiche che si presentano nella barra dell'applicazione o meglio nella sezione delle notifiche ad esempio dato che in questo caso io sto utilizzando un desktop che non ha il touchscreen quindi la modalità tablet non è attivabile io potrei semplicemente eliminare questo pulsante tramite il cursore relativo disattivandolo non avrò più in visione appunto il pulsante modalità tablet e così puoi farlo con tutti i pulsanti che si presentano in questa zona in base alle tue necessità altra che si potrebbe disattivare è la posizione o nota se non volessi utilizzare questo specifico pulsante così come tutti gli altri torniamo indietro nella zona centrale trovi altri cursori che ti permettono di attivare o disattivare delle opzioni in questo caso puoi attivare o meno le notifiche delle applicazioni o da altri mittenti quindi da altri programmi oppure mostrare le notifiche anche nella schermata di blocco in questo caso è possibile ottenere questa opzione visto che già è attivato oppure qualche altra notifica relativa alle chiamate o alla sveglia o ancora magari disattivare le modifiche se hai una duplicazione dello schermo o ottenere suggerimenti durante l'uso del sistema operativo le opzioni naturalmente che non credisci o non utilizzi è bene disattivarle in questo caso ne disattiveremo tre in basso trovi altri pulsanti in relazione ai programmi che sono installati qui ne trovi soltanto quattro ma nella tua versione potresti anche trovarne di più anche qui sarà te decidere o meno se avere la notifica da questi mittenti o meno a seconda che tu utilizzi con frequenza questi programmi chiudiamo e torniamo al centro notifiche un altro pulsante che potrai attivare o disattivare è la posizione ci sono dei programmi che funzionano in maniera migliore oppure hanno la necessità essenziale di ottenere la posizione del dispositivo in questo caso tu potrai abilitare il rilevamento della posizione o meno in caso di necessità il pulsante non disturbare ovviamente senza ulteriori spiegazioni ti permette di impostare un'assenza di notifiche dai vari programmi in modo da poterti concentrare meglio sul lavoro il pulsante vpn ti permette di creare una virtual private network ossia un tunnel che aumenta le caratteristiche della sicurezza della tua navigazione il pulsante proietta ti permette di scegliere come utilizzare la visualizzazione sul tuo desktop o se hai altri dispositivi collegati come un notebook o un altro schermo quindi selezionare soltanto lo schema principale duplicare quindi ottenere la stessa visualizzazione sui due schermi estendere quindi avere la possibilità di avere due monitor che lavorano in maniera differente come se fossero quasi i desktop virtuali oppure visionare soltanto il contenuto sul secondo schermo sullo schermo secondario il pulsante connetti ti permette di connettere dei dispositivi al tuo pc soprattutto se vuoi utilizzare come ad esempio l'utilizzo dei dispositivi audio senza fili wireless oppure utilizzare il tuo pc come proiettore di contenuti multimediali in questo caso il mio pc non supporta la ricezione come dice qua di mini ragazza quindi non posso utilizzare dispositivi wireless su questo monitor altra possibilità per le impostazioni delle notifiche è cliccare nella barra delle applicazioni con il pulsante adesso in una zona vuota seleziona impostazioni nella nuova finestra già trovi selezionata barra delle applicazioni altrimenti selezionano tu e scorrendo verso il basso trovi dei pulsanti area di notifica cliccando sul primo seleziona le icone da visualizzare sulla barra delle applicazioni potrai scegliere quale di queste applicazioni quindi della lista che ti si presenta avrai la possibilità di visionare nella sysray un pulsante in alto che in questo caso troviamo disattivato ti permette di evitare il raggruppamento delle icone come accade in questo caso un certo numero di icone sono raggruppate infatti disattivandolo hai la visualizzazione immediata delle icone di alcuni programmi installati e tramite queste icone come sempre tu puoi interagire come meglio credi e ricevere le notifiche qualora il programma determinasse la necessità di allertarti qualora tornassi al modo di raggruppamento puoi anche qui attivare o disattivare il numero di icone da visualizzare come vedi in tempo reale ho disattivato e attivato l'icona dell'altoparlante ma io preferisco sempre visionare tutte le icone altro pulsante che trovi è attivo disattiva icone di sistema dalla lista forse quella più importante è quella che ti permette di disattivare il centro notifiche qualora tu lo volessi come vedi disattivando l'in basso a destra non comparirà più il fumetto che rappresenta poi l'icona del centro notifiche con le rispettive notifiche naturalmente anche qui il numero di cursore ti permette di attivare o disattivare il numero di icone che si visualizzano nella Sistray sa a te ovviamente decidere in base all'utilizzo che ne farai la selezione o la deselezione di una o l'altra icona e quindi la corrispondente notifica bene nella prossima lezione ancora nuove informazioni per windows 10 ora come sempre un forte saluto ciao a presto da gallo e dalla prossima